ciao a tutti benvenuti in questo nuovo tutorial riguardante il PSP Fat Pressor ossia un compressore che ricorda anche molto fedelmente l'Uray 1176ln l'abbiamo inserito all'interno di un brano metal che ho missato recentemente che si chiama stay dei black jasper trovate il video su youtube ovviamente e nei collegamenti soli andiamo ad ascoltare cosa fa sulla voce questa è la voce flat con un leggero equalizzatore in questo caso sto usando soltanto le Q del challenge trip per fare un roll off sui bassi accendiamolo andiamo un po' più di attacco per rendere aggressiva la voce facciamo un taglio sull'i pass filter per non coinvolgere troppo i bassi un po' più di compressione perfetto ma possiamo notare è estremamente flessibile e anche dettagliato sentiamolo nel mix vi consiglio sempre di ascoltare i tutorial in cuffia per poter avere una chiara definizione di quello che fa il compressore in questo caso fat pressor uno dei migliori compressori mai realizzati cloni dell'1176ln questa volta da PSP continuate a seguirmi iscrivetevi al mio canale youtube seguitemi su facebook e anche su musicoff ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti